Siamo con Massimo Cinque, il presidente del San Gregorio. Signor Massimo, finalmente arriva la prima vittoria in campionato, una vittoria alla fine meritata, se vediamo le occasioni, quanto mai meritata? Sì, anche se devo dire che la Sant'Egidiesi veramente mi ha fatto un'ottima impressione, una squadra molto quadrata in tutti i reparti, il primo tempo ci ha messo in difficoltà, ha avuto due o tre occasioni limpide, poi il secondo tempo siamo usciti, abbiamo giocato meglio rispetto al primo tempo e abbiamo creato delle occasioni, sì, credo che forse alla fine facendo un po' la somma di tutte le varie situazioni la vittoria è meritata, anche se ripeto, Sant'Egidio mi ha fatto veramente un'ottima impressione, una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per le prime posizioni, per la vittoria finale. Anche questa è stata la nostra impressione, qualcosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo, il primo tempo effettivamente la Sant'Egidiesi ha dominato la gara, mentre poi sia le sostituzioni sia forse il riposo hanno dato quel qualcosa in più al San Gregorio, complimenti vanno anche al mister, vediamo il tabellino, due giocatori subentrati a partita in corso che hanno deciso questa gara. Assolutamente sì, il mister è stato molto bravo come sempre a leggere la partita, adesso diciamo che con le cinque sostituzioni c'è un vantaggio secondo me, nel senso per tutte le squadre naturalmente, perché con cinque sostituzioni la partita la puoi cambiare in corso, magari ti accorgi di qualcosa che non va e puoi cambiarla. Sì, è vero, siamo entrati in campo un po' contratti, poi il secondo tempo sì, abbiamo preso il sopravvento, l'unica cosa forse secondo me all'inizio c'era un rigore per noi, solo quello, possiamo un po' recriminare, che forse poteva cambiare la partita, però è andata così, c'era secondo me un calcio di rigore i primi minuti per un fallo su Gizzi in area e l'arbitro però ha visto così, non sarebbe sentita di darcelo e quindi però alla fine con i secoli in mano non si va da nessuna parte, quindi per noi va bene così, una vittoria importante, salutare, la squadra mi era già piaciuta molto domenica scorsa a Fontanelle, che forse ai punti meritavamo, abbiamo pareggiato 0-0 ma meritavamo la vittoria e oggi hanno confermato quello di buono che sarà visto già domenica scorsa, insomma, quindi va bene così, proseguiamo. Grazie a tutti.